C'è stato un convegno importante che vi ha soddisfatto, però affrontiamo proprio il tema, il ricambio generazionale, perché la vita va avanti, quelli come me devono cominciare a ritirarsi e dare spazio ai giovani. Prego Enrico. Grazie innanzitutto, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Sì, abbiamo appena concluso, più che convenio, è stata una tavola rotonda molto interessante, molto orizzontale, anche perché avevamo in platea molti giovani studenti che sono qui oggi in visita. Il tema è il ricambio generazionale in agricoltura, che sappiamo essere per noi un tema di lavoro quotidiano e anche una tematica sempre più importante sia a livello nazionale che europeo, perché i numeri purtroppo sono in continua discesa e non si riesce ancora a invertire quel trend che vuole che a livello europeo attualmente i giovani under 40 siano più o meno il 10%, mentre a livello nazionale anche meno, perché ci attestiamo più o meno sul 7,5%. Quindi è necessario continuare a lavorare sia a livello associativo ma soprattutto con le istituzioni, perché probabilmente le politiche hanno bisogno di un cambio di passo, di un'inversione di tendenza, altrimenti continueremo a perdere più giovani di quelli che entrano nel settore e ci ritroviamo tra qualche anno senza imprenditori agricoli. Quindi da questo punto di vista dobbiamo fare tanto. Ecco, sbaglio se dico che il mondo dell'agricoltura non è più quello di decenni fa, le tecnologie, i macchinari, insomma, è diverso, è un impegno indiscutibilmente, è un lavoro faticoso e pesante, però è sicuramente cambiato. E questo ci può servire per invogliare il mondo giovanile ad affrontare, perché alcune aziende agricole, vediamo alcuni giovani che iniziano dei percorsi e poi hanno anche i loro risultati. Esatto, abbiamo visto anche dai recenti rapporti anche di Istat che le aziende si sono ingrandite, quindi c'è una concentrazione, la media degli ettari è salita notevolmente, quindi abbiamo aziende più strutturate, più grandi che lavorano in modo più importante. E' ovvio che uno dei fattori di successo per coloro che sono nel settore oggi è il ricorso anche alla meccanizzazione, quindi una tecnologia, un'innovazione sempre più spinta. Oggi siamo qui nella massima espressione che è l'Eema International, che è una fiera di livello internazionale. Vedremo, abbiamo visto, ci sono novità importanti, soprattutto anche dal punto di vista dell'elettrificazione, dal punto di vista anche del lavoro autonomo nei campi, che è un tema anche importante perché la mano d'opera negli ultimi anni scarseggia e quindi è difficile operare, perché le aziende a volte devono limitare anche le operazioni perché non hanno mano d'opera. E quindi meccanizzare a volte diventa dove è possibile, perché purtroppo il nostro territorio è particolare, è conformato in maniera molto disomogenea, da nord a sud. Siamo piccoli come paese, se guardiamo il mondo, ma molto differenti tra un po' e l'altro. Esatto, quindi alcune di queste macchine, molte di queste macchine che sono qui oggi magari non sono neanche applicabili. Io vengo dall'Abruzzo, vediamo l'erpice che giusto qui fuori sarebbe impensabile vedere una nostra regione, un macchinano del genere. Però vediamo da tanta tecnologia quanto il lavoro in agricoltura si sia evoluto e anche l'aspetto della digitalizzazione è notevolmente aumentato. Oramai tra dati, stazioni meteo, abbiamo i sistemi DSS, abbiamo la possibilità di monitorare, di controllare e anche di aggiustare un po' la rotta perché il clima non è più lo stesso. Le piante purtroppo non riescono ad adattarsi a cambiamenti così repentini. E cosa ne va? Ne va la produzione, che purtroppo ogni anno abbiamo dei cali di produzione importanti o per una cosa o per un'altra. L'anno scorso mezza Italia è stata funestata dalla Peronospora, quest'anno probabilmente c'è un calo anche a livello di produzione di olivicoltura importante. Quindi gli agricoltori si trovano delle sfide non più decennali o ventennali ma sono anno per anno e non riescono più a prendere decisioni in tempo. Da un anno all'altro si cita o troppa acqua in alcuni settori. Esatto, e sappiamo quello che abbiamo visto che cosa è successo qui nel Mediterromagna fino a qualche settimana fa. Volevo farti ancora una domanda ma mi hai anticipato perché proprio in questi momenti di Eima si è parlato dell'innovazione tecnologica per sopperire la mano d'opera. Però me ne hai già giustamente parlato, direi che posso ringraziarti, hai tante cose da seguire, tanti momenti qua da vivere a Eima. Grazie a voi. Ti ringraziamo per la tua gentilezza e in bocca al lupo che i giovani arrivino a questo settore che rimane il settore primario. Esatto, rimane il settore primario anche se c'è tanta tecnologia ma rimane il settore che produce, che vuole continuare a produrre. Gli dobbiamo dare gli strumenti per essere più competitivo e ricordiamo sempre che il prodotto agricolo nazionale è tra i più controllati, tra i più salubri, tra i più nutrienti che abbiamo al mondo. E il nostro agroalimentare non ce lo deve togliere nessuno, non ce lo può togliere nessuno e dobbiamo continuare a valorizzarlo con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Grazie. Grazie a voi.